A rischio le poltrone del Consiglio d'amministrazione di Tua e con esso quindi anche le decisioni prese finora. L'opposizione dell'emiciclo infatti aveva chiesto alla Commissione Vigianza di far luce sull'iter che ha portato alle nomine dei vertici del trasporto pubblico e sulla questione adesso è arrivato il parere dell'Avvocatura regionale, secondo cui a far tremare il CDA di Tua sarebbe un vizio procedurale. Il 28 giugno infatti il CDA si era riunito per approvare il bilancio e nominare presidente e consiglieri ma secondo la ricostruzione dell'Avvocatura due consiglieri si erano rimessi il giorno prima e con la decadenza del presidente avvenuta dopo l'approvazione del bilancio si era aperto uno scenario inedito. In questo caso nella carta fondamentale della società pubblica di trasporto è previsto che il collegio sindacale convochi d'urgenza l'assemblea dei soci scavalcando il collegio sindacale invece durante la stessa riunione del 28 giugno la giunta regionale ha ricostituito l'organo amministrativo di Tua, riconfermando il presidente Giulianti e nominandone i consiglieri. Per l'Avvocatura quindi la delibera di Marsilio non è valida e di conseguenza il CDA e gli atti da questo prodotti potrebbero essere illegittimi. L'Avvocatura però fornisce alla giunta anche una scappatoia, la delibera della regione potrà non essere annullata se sostituita con una delibera conforme alla legge e allo statuto. Insomma il consiglio d'amministrazione sarà salvo se il governo regionale si appresta a confermare le nomine rispettando questa volta, seppur in ritardo, la procedura prevista dallo statuto di Tua. Questa è l'ennesima bega che affligge il presidente Gianfranco Giulianti. Ieri infatti c'è stata la seconda giornata di sciopero dei dipendenti Tua, che sono scesi in piazza contro la privatizzazione dei servizi della società pubblica, per denunciare l'inefficienza del parcomacchine e per tutelare il personale. A Pescara ha aderito allo sciopero un dipendente su tre, mentre nelle altre province ha manifestato quasi la totalità dei lavoratori. E' ancora risolto il grattacapo della sede di Chieti, accorpata a quella di Pescara, per la presunta pericolosità dell'amianto presente nella struttura. E mentre Marsilio tarda a prendere in mano la questione aperta dall'avvocatura, ieri infatti si era già riunita la maggioranza, i sindacati continuano a chiedere un tavolo coi vertici di Tua, una richiesta questa a cui non è ancora giunta risposta.